La maturazione, oltre che rappresentare un miglioramento della qualità di servizio, della qualità dei prodotti che forniamo alla nostra clientela, rappresenta indiscutibilmente un eccellente strumento di profitto. Lo stesso taglio di carne che offrireste ai vostri clienti a 45-50 euro al chilogrammo, maturato all'interno del vostro WeAge, acquisisse un valore superiore fino al 20%. Ma veniamo a cos'è la maturazione. Il processo di maturazione lo si può considerare come un processo di decomposizione controllata. Per quanto questa parola abbia un'eccezione negativa, il poter controllare un processo naturale come la decomposizione trasforma questa reazione in un vantaggio da un punto di vista di morbidezza, succosità e tutti quei sentori nasali palatali che ci rendono gradevole il gusto, soprattutto dopo una cottura con uno strumento come il broiler green o il green. Ma controllare questo processo non è così semplice. Serve competenza, servono strumenti e tecnologie precisi. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i punti salienti di un corretto processo di maturazione. Il sistema VO ci permette di veicolare in maniera orizzontale e verticale perfettamente la ventilazione. Questo ci permette di sigillare immediatamente il nostro tronchetto di carne, impedendo così l'insorgenza di ristagni di umidità e di muffe superficiali. Il controllo perfetto della temperatura e dell'umidità altresì ci aiuta ad avere un ambiente con un microclima controllato e sanificato dalla produzione del ossigeno attivo grazie al sistema brevettato Oxygen Clima. Il semplice e intuitivo LCD del WeAge permette di avere sempre sotto controllo quello che è la situazione all'interno del mio armadio di maturazione WeAge. La temperatura, l'umidità e in che programma sono. Perché WeAge può gestire sei differenti processi di maturazione, a seconda delle varie esigenze del professionista. La gamma WeAge è rappresentata da due prodotti. Il WeAge 100, che ha una produttività da 40 a 100 kg e il WeAge 130 LM, dove LM sta per lunga maturazione. Quindi un armadio di maturazione che permette anche maturazioni lunghe, oltre i 90, 120, 150 giorni, grazie alla possibilità di poter gestire in maniera attiva, quindi produrre umidità, che oltre i 90 giorni può essere una componente necessaria per un corretto processo di maturazione. Il 130 LM può essere anche monitorato, gestito e controllato da remoto grazie alla tecnologia 4.0.